Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, sabato pomeriggio doppio corteo, il primo da Piazza Vittorio a Piazza Bocca della Verità, il secondo dal Ponte Spizzichino a Piramide lungo la via Ostiense, chiusura al traffico e modifiche per il trasporto pubblico, domenica poi in città arriva il Giro d'Italia, la tappa conclusiva della Corsa Rosa si svilupperà tra l'Eur, Ostia e il Centro Storico.